L'incidente delle conclusioni tragiche nella giornata di venerdì 6 dicembre intorno a mezzogiorno e mezza sulla strada provinciale 265 che da Castellamonte porta a frazione campo. A scontrarsi frontalmente una lancia Ypsilon con a bordo una donna e una Fiat Panda con due ragazze. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, la croce rossa con il soccorso avanzato di Castellamonte, l'elicottero del 118 proveniente da Cuneo, i carabinieri della stazione Castellamonte, il nucleo radio mobile di Ivrea e una pattuglia della polizia di Stato. L'impatto è stato alquanto violento, inutili i tentativi di rianimare la conducente della lancia Ypsilon purtroppo deceduta. Le due donne sulla Panda dopo le prime cure sono state ritrasportate in codice giallo all'ospedale di Cuneo. La dinamica è il vaglio dei carabinieri, chiuso temporaneamente al traffico il tratto stradale. Grazie a tutti.